Buongiorno ragazze, sono Azzurra del negozio Mondotondo Sant'Ecchia Vibrata, un fashion store di 0-18 anni. Oggi voglio proporvi anche una piccola collezione che noi abbiamo, uomo-donna di tute di Adidas e Puma. Voglio infatti presentarvi questa tuta nuova che è arrivata in Cotton Priest, felpato, della Puma, dalla taglia XS fino alla taglia L. E ragazze, potrebbe essere un'ottima idea regalo per le nostre nonne. Le nonne di oggi sono giovani, sono giovanili e sono anche molto fashion. Quindi anche per il 2 ottobre, come regalo per la festa dei nonni, potrebbe essere un'ottima idea regalo. Tutta bellissima, abbiamo anche tantissime tute da uomo, sempre dalla taglia XS alla taglia XL. Quindi per qualsiasi informazione scrivetevi sempre al numero WCAP 0861 1863 920. E pensateci, guardate, è bellissima, ottima idea regalo sia per voi che come pensierino per le vostre nonne giovani, che sono tutte giovani e belle. Un bacione, ciao e buona giornata a tutte, ciao! Grazie a tutti!